Tracce napoleoniche nelle collezioni lariane. È la nuova mostra di Villa Monastero che parlerà proprio di Napoleone legato alla città di Lecco. Attraverso il collezionismo privato è stato costruito un percorso proponendo oggetti che sono conservati in collezioni private e che quindi non si possono mai vedere. È stata scelta quindi l'occasione proprio del bicentenario e l'iniziativa si protrarrà fino al 31 gennaio 2022. Agli oste spalle c'è la chicca di questa mostra. Diciamo che il pezzo che ha dato il via a questa avventura è un ritratto che attualmente è in collezione privata. Il restauro affrontato dal proprietario generosamente per l'occasione ha riportato alla luce una cosa curiosa, cioè un quadro celebrativo. Inizialmente c'era scritto Napoleone liberatore d'Europa 1796, però quando Napoleone cade, pur di non buttarlo via, cosa molto lecchese, il proprietario ha scritto sopra Napoleone fragello d'Europa 1814. È interessante perché è espressione anche dei tipici voltafaccia locali che sono anche molto attuali, quindi in questo senso è anche divertente.